I gender studies sono gli studi di genere che partono dalla grande diversità maschio-femmina, uomo-donna e poi si spostano su tutte le gradazioni gay, lesbiche, bisessuali, transgender e poi si aggiunta questa queer, questo modo di dire strano, bizzarro, questo modo eccentrico la mia femminista preferita statunitense, Judith Butler, dice che certe volte si scoccia talmente tanto di essere queer che nega di esserlo cioè nel senso che è talmente strana e talmente bizzata che se qualcuno comincia a chiamarla strana e bizzarta normalmente diventa pelle ordinarie e quindi dice non lo so